Carissimi, questo piccolo video per mostrarvi come sia semplice ed estremamente rapido la gestione a livello ambulatoriale di una protesi fissa conometrica, cioè ritenuta solo per pressione. Il paziente viene per una normale seduta di igiene e di controllo, in pochi secondi con un martelletto staccapponti le due protesi vengono rimosse, poi ovviamente fuori dalla bocca vengono pulite, lucidate, brillate, fatto quello che serve, dopodiché vengono riposizionate e a questo punto l'aconometria deve essere attivata con dei semplici colpetti di martelletto e legnetto, vedete, assiali agli impianti, in questo caso 4 sopra e 4 sotto.